Buonasera, benvenuti, un cordiale benvenuto a tutti voi qui nel teatrino di Palazzo Visconti, un posto dove veniamo sempre molto volentieri. Ringraziamo moltissimo la dottoressa Diana Bracco che ci ospita anche questa volta per commentare e parlare della mostra Dentro Caravaggio, una mostra che sta avendo un successo senza precedenti perché i numeri che stanno affluendo alla mostra stanno toccando un record storico. Quindi grande apprezzamento della mostra, ma la mostra non è solo un grande evento espositivo, è stata l'occasione per delle ricerche molto approfondite. Possiamo dire tranquillamente che da quando è sorto il nuovo millennio poche cose sono andate bene, ma tante sono andate bene intorno a Caravaggio perché negli ultimi 16, 17, 18 anni tra i ritrovamenti negli archivi, ritrovamenti di fonti e soprattutto questa parte che commenteremo stasera, cioè le ricerche diagnostiche, hanno portato a conoscere moltissime cose in più rispetto a quello che si conosceva 15 o 20 anni fa. Quindi questa sera, proprio brevemente, ma in modo esaustivo, ci occuperemo dei segreti svelati da queste analisi scientifiche. Cioè la storia dell'arte, grazie alla scienza diagnostica e ai progressi della scienza diagnostica, può aprire nuovi fronti perché le notizie che sono venute fuori non servono per confermare qualcosa, ma servono per aprire nuovi interrogativi e nuove piste d'indagine intorno a questo grande artista. Ne parliamo con Rossella Vaudret che è la curatrice della mostra, che è stata la sovrintendente speciale per il Polo Museale Romano e in questa veste ha cominciato la grande opera di ricognizione, diciamo, diagnostica delle opere di Caravaggio. Ne parliamo con l'ingegner Claudio Falcucci che è coordinatore della sezione diagnostica proprio di questa mostra dentro Caravaggio che ha lavorato, diciamo così, con grande passione proprio da tecnico a questo progetto e ne parliamo con Isabella Castiglioni dell'Istituto Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del CNR che ci porta un contributo molto importante perché a noi le indagini diagnostiche servono alla nostra salute innanzitutto, ma perfezionandole lì si può vedere come la perfezione che si raggiunge per il nostro corpo può essere applicata anche alle opere d'arte. Ecco questo è il riassunto delle cose che noi adesso affronteremo e do subito la parola a Rossella Vaudre che parte appunto dai dati che le sono giunti della mostra, una mostra che sta avendo un successo di visitatori altissima, questo è una grande soddisfazione. Lascio a lei i numeri perché mi sembra giusto che sia lei a dirli e le considerazioni che lei vorrà fare ora proprio sul futuro per gli studi di Caravaggio che queste indagini, questa mostra e quello che è stato fatto fin qui sarà necessario sviluppare appunto per sapere ancora di più e ancora meglio chi è questo grande artista. Prego. Siamo particolarmente contenti di questo risultato di pubblico, per questa mostra ci avviamo a superare anche se di poco i 400.000 visitatori quindi che è un numero credo molto molto importante quindi soprattutto per noi abbastanza inaspettato perché è vero che Caravaggio è un nome assolutamente parla da solo, da solo crea molta aspettativa e di solito appunto le mostre che vedono qualcuno dei suoi quadri esposti sono effettivamente molto visitate. Però questa mostra non erano solo queste magnifiche 20 tele che erano un numero peraltro molto molto importante di opere di Caravaggio esposte ma c'era altro appunto c'era da una parte tutta la ricerca documentaria quindi erano esposti anche i documenti c'era un focus proprio sull'uomo Caravaggio che c'ha diciamo che era uno delle chiavi di lettura attraverso cui si poteva leggere questa mostra e soprattutto c'erano le indagini diagnostiche che come ha ricordato Marco Cardinali sono iniziate nel 2009 con le analisi sulle 22 opere che sono conservate a Roma e sono state adesso implementate grazie alla disponibilità del gruppo Bracco su altre 13 opere che non vengono da Roma ma vengono da tutti i musei del mondo e su cui sono state fatte queste indagini. Siamo adesso a quota 35, 35 opere che sono state indagate con, perché è una cosa molto importante che le indagini che vengano fatte siano comparabili perché se uno lo fa in un modo e un altro li fa con altre attrezzature è chiaro che poi si creano dei problemi di lettura comparata. Invece grazie alla consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro di Roma abbiamo stabilito degli standard qualitativi che dovevano essere seguiti per realizzare queste indagini e quindi le indagini che fin qui si sono svolte sulle opere di Caravaggio sono tutte comparabili, quindi questo è anche un dato molto importante. Ne mancano altri 35 e per questo abbiamo adesso chiesto alla comunità europea, abbiamo presentato un progetto europeo e speriamo che venga che venga approvato in maniera tale da poter andare avanti su questa strada. Le indagini e le tecniche ci hanno confermato più che altro uno schema che Caravaggio usa anche se con molte, in realtà molte, molte libertà, perché poi ce lo siamo detto molto spesso con Claudio Falcucci, poi in realtà lui sceglie come gli pare, ecco, quindi non segue schemi, però diciamo ha delle costanti appunto questa introduzione nel disegno sulle preparazioni chiare del primo periodo, quest'uso invece partiene dagli ultimi quadri del Cinquecento, la preparazione da chiara diventa scura, quindi sulla preparazione scura non si vede più il disegno che naturalmente era ben visibile sulla preparazione chiara e quindi vengono introdotte le incisioni, queste famose incisioni che sono state scoperte tra l'altro da Mina Grigori e Kit Christensen negli anni 80. E poi quest'uso importante della preparazione che lui lascia a vista, di fatto la preparazione diventa una componente essenziale della gamma cromatica dei suoi dipinti, quindi ha un ruolo molto importante. Gli abbozzi, gli abbozzi chiari che con cui lui spesso proprio addirittura disegna sulla preparazione scura, disegna con il pennello chiaro. Ma la cosa che, e quindi di questo parleranno sia Claudio Falcucci sia Isabella Castiglioni che hanno approfondito questi argomenti. Quello che volevo segnalarvi brevemente in questo mio intervento è invece la scoperta delle immagini nascoste. Cioè Caravaggio si sa che non faceva disegni preparatori o perlomeno non ne sono stati trovati. Però noi facendo questo studio particolare, soprattutto attraverso le riflettografie e le radiografie che penetrano in diversa misura sotto la superficie pittorica, quindi ci rivelano tutto quello che è stato il processo creativo di Caravaggio, tra l'altro è dentro Caravaggio, è per questo il titolo della mostra. Sono una serie di indagini, di immagini nascoste che vorrei brevemente farvi vedere che è appunto, secondo me, il punto di partenza per un nuovo filone di studio. Come devo fare? Eccolo. Qui c'è la Pinacoteca Capitolina, la Buonaventura. Sotto sapevamo già che c'era una Madonna in preghiera che era attribuita al Cavaliere d'Alpino che è stato uno dei maestri di Caravaggio e grazie all'elaborazione fatta dal CNR in collaborazione con l'Università Bitrocca abbiamo una leggibilità incredibile di questa Madonna che è sotto che da alcuni è stata attribuita a Caravaggio stesso. quindi non è un discorso facile perché non è facile attribuire una radiografia ecco questa ovviamente è la Madonna che è sotto però insomma ci sono alcune caratteristiche soprattutto della distribuzione della luce che ci fa pensare che effettivamente possa essere così. Ancora avanti, una cosa interessantissima che è uscita sotto il riposo della fuga in Egitto d'Oria questa è la radiografia, vedete c'è lo spostamento dell'angelo che all'inizio era qui era più piccolo ed era nudo, vedete questo tra l'altro l'ha provato in più posizioni ma era qui e poi lo ha spostato e le ha portato al centro. Questo ha portato, ha fatto sì che lui dovesse spostare sul paesaggio che era già dipinto la figura della Madonna con il bambino che aveva già abbozzato, la vedete qui questa impronta chiara questo era l'abbozzo della prima posizione della Madonna con il bambino che era vicino a San Giuseppe come è più logico. Poi è intervenuto questo cambiamento e allora ci si pone come domanda ma perché ha fatto questa cosa, cioè è un cambiamento diciamo concettuale al di là di compositivo ma un cambiamento concettuale fortissimo perché è andato a dividere San Giuseppe dalla Madonna e perché l'ha fatto e chi gliel'ha suggerito, gliel'ha chiesto qualcuno cioè queste sono tutte domande a cui penso che, cioè a cui dovremmo rispondere. Questa è la, diciamo, la riflettografia che va meno a fondo come ho detto della radiografia ma in cui spero che lo vediate perché la vedo molto scura però ci sono tutti questi foglie delle canne, delle piante che sono nel paesaggio che entrano letteralmente dentro la manica della Vergine e che stanno a dimostrare appunto che il paesaggio era già stato dipinto quando lui deve spostare la Vergine. Ancora molte sono le novità che abbiamo trovato sul sacrificio di Isacco della Galleria degli Uffizi. Una è fra tutte interessantissima e questa, non so se la vedete, questo è lo schema, è il grafico delle incisioni che ha fatto Claudio Falcucci vedete abbiamo trovato questa incisione che non ha nessuna ragione di essere perché è qui in mezzo al paesaggio. Dice, che cosa c'è? No, oggi non si vede. Vabbè, scusatemi perché io mi illuminavo lì ma non... e niente, c'è un'incisione più o meno in questa posizione che appunto non ha nessun tipo di ragione di essere perché lì c'è paesaggio, non c'è niente. In realtà abbiamo capito che lì era probabilmente la prima posizione della riete e infatti non a caso vedete dov'è che indica l'angelo proprio in corrispondenza di questa incisione che indica la prima posizione della riete che poi alla fine è stata spostata in basso a destra perché la ara, questa specie di altare su cui poggiava la testa Isacco alla fine è stata trasformata in un sasso e quindi molto rimpicciolita e quindi a questo punto la riete è stata spostata però non per questo Caravaggio ha pensato di spostare anche l'indice ormai l'aveva fatto e quindi diciamo così non gliene importava più di tanto. Ancora, ecco, queste sono solo la riflettografia e la radiografia sempre del sacrificio di Isacco e questo è anche, sono particolarmente fiera della scoperta nel San Giovanni di Palazzo Corsini a Roma di questo agnello perché c'era questo quadro in cui tutti ci chiedevamo sempre ma che sta facendo questo ragazzo questo San Giovanni, che è un giovinaccio di strada poi che sta facendo questo qui, si guarda da una parte si sta alzando, non si capiva è una posizione veramente strana e alla fine invece con le radiografie sempre grazie all'elaborazione del CNR abbiamo trovato che qui lui era rivolto verso il suo simbolo iconografico l'agnello che sta proprio dietro alle sue spelle questo è un pregevole disegno fatto da me per far capire, insomma, un po' meglio questo agnello com'era sistemato ecco qua, queste sono le foto che poi vi farà vedere ecco, questo ve lo portate ma ce ne sono altre questo è solo un diciamo un brevissimo sono degli esempi brevissimi per farvi vedere effettivamente come lui avesse questo rapporto con la tela così intenso d'altronde lui non disegnava immaginava chiaramente la scena che doveva comporre però molte delle sue sperimentazioni vengono direttamente sulla tela quindi lui cambia, ricambia fino a che non è soddisfatto lui appunto continua le modifiche sulle sue composizioni e niente questo è, secondo me si avvia in questo modo un nuovo proprio filone di studio perché di capire perché lui faceva questo perché cambiava glielo dicevano i committenti era una sua idea cioè si aprono tutta una serie di importanti di domande e appunto come diceva prima Marco Carbinati effettivamente questa questa mostra è stata sì il punto di arrivo di una serie di studi ma anche un punto di partenza per nuove scoperte grazie 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 dottoressa per questo sintetico ma chiarissimo intervento che spiega appunto come ci si dovrà rapportare adesso guardando non solo le opere di Caravaggio ma quello che c'è sotto le opere di Caravaggio per capire che cosa lo ispirava in questi certe volte radicali cambiamenti della composizione quindi un tema che vedremo si svilupperà sicuramente nei prossimi nei prossimi anni e nelle prossime indagini le indagini radiografiche hanno portato tanti altri elementi alla conoscenza questo è uno evidentemente dei più interessanti e vistori soprattutto per gli storici dell'arte ma ci sono tanti elementi che vanno presi in considerazione e uniti a questo aspetto della libertà con cui Caravaggio componeva direttamente davanti alla tela le sue immagini per esempio i supporti la scelta dei supporti Caravaggio come si regolava nello scegliere i supporti oppure come preparava la base su cui lavorare e poi ancora la composizione che abbiamo visto essere particolarmente elaborata ecco questi sono interrogativi tra gli altri che sono stati affrontati che l'ingegner Falcucci ha proprio piano piano con calma con visioni del materiale che affluiva quando si facevano poi le indagini ha cercato di commentare e comprendere quindi gli chiederei proprio di mettere a fuoco alcuni di questi aspetti sui supporti sulla composizione delle tele di Caravaggio prego molto volentieri grazie diciamo che avere a disposizione un gran numero di dipinti dello stesso autore uno vicino all'altro per poter fare degli studi sistematici e comparati tra l'altro dipinti che coprono vasta parte della produzione dell'artista andando da dipinti delle primissime fasi fino a dipinti estremi addirittura in mostra avevamo proprio l'ultimo dipinto realizzato dal pittore prima della sua morte ha consentito effettivamente di cercare di dare un'interpretazione a tutta quanta una serie di dati e di informazioni che erano già in buona parte state raccolte nel corso del tempo ma alle quali non era stato possibile dare un senso logico una sistematizzazione proprio per quanto riguarda i supporti per esempio vengo subito alla prima questione posta si è sempre avuto l'idea di un pittore Caravaggio che dipingeva su qualunque tipo di supporto che gli capitasse sotto mano da cosa partiva questa da cosa muoveva questa idea dal fatto che effettivamente le tele utilizzate da Caravaggio sono decisamente molto varie andiamo da tele molto fitte a tele molto rade a tele tessute appunto ad armatura tela cioè una tela abbastanza normale diciamo come tipo di tessitura fino a tele invece tessute ad andamento diagonale tipo le tele dei jeans diciamo così per avere un'idea del tipo di tessuto o addirittura damascati quindi tele decisamente molto raffinate e molto ricercate beh mettendo insieme tutte quante queste informazioni quello che si è notato è che Caravaggio nella sua fase giovanile dipinge quasi esclusivamente su tele tessute ad armatura tela e con una densità molto elevata cioè tele molto fitte tele che in qualche modo gli garantissero una buona stabilità del supporto quasi che rendessero quasi illegibile la tessitura della tela attraverso le spesse preparazioni che Caravaggio andava a stendere su questi dipinti quindi per esempio abbiamo qui un'immagine radiografica del buona vedo un dettaglio della maddalena penitente della galleria Doria Panfili e l'effetto qual è? che sulla superficie in realtà la tela quasi non si percepisce viene un effetto quasi da dipinto su tavola perfettamente levigato perfettamente smaltato senza quell'effetto di vibrazione della tela con il passare del tempo ecco questa è una tela un po' particolare nella fase giovanile questo damascato appunto del riposo nella fuga in Egitto ma con il passare del tempo sempre nella fase diciamo così romana matura vediamo che queste tele molto fitte vengono sostituite da delle tele molto più rate tele molto più rate che hanno in questo momento per Caravaggio un vantaggio molto particolare che è quello di garantire diciamo così la possibilità di tessitura su formati molto più grandi rispetto a quelle in cui erano normalmente tessuti le tele fitte quindi Caravaggio comincia a dipingere soggetti diciamo a dipingere tele di formato molto più grande rispetto ai dipinti giovanili e si trova ad avere a disposizione tele appunto ad armatura tela le famose tele romane o tele laziali un po' il clima da derby diciamo così nella discussione sulla denominazione delle tele ma sono appunto delle tele che erano tessute a Roma a larghezza fino a oltre due metri quindi effettivamente gli consentivano di non dover cucire pezze di tela diverse per costruire dei supporti anche per dipinti molto grandi con il passare del tempo andando verso le grandi pale della maturità romana ma poi tutte le grandi pale della fase poi napoletana vediamo che Caravaggio comincerà ad utilizzare delle tele tessute ad armatura saia quindi con questo andamento diagonale che hanno in queste lo stesso vantaggio di essere tessuti in formati grandi ma nello stesso tempo di dare un tessuto molto più solido rispetto all'armatura tela quindi una scelta decisamente funzionale per delle tele di grandi formato che in qualche modo non si deformassero non creassero problemi di stabilità né durante la pittura né durante poi la necessaria conservazione dell'opera a questo punto quando Caravaggio lascia Napoli per andare prima a Malta e poi in Sicilia vediamo che abbandona completamente queste tele e ritorna a delle tele molto rade qui vediamo quella dell'adorazione dei pastori di Messina dove praticamente diciamo ritorna alle tele romane della prima fase matura ma semplicemente perché in quelle zone quindi a Messina scusate in Sicilia e a Malta non è in quel momento possibile reperire evidentemente tele di formato diverso rispetto a quelle che utilizza e tessute diverse da quelle che sta utilizzando quindi un'esigenza diciamo così estremamente pratica che lo costringe ad utilizzare qualcosa di diverso da quella che sarebbe stata forse la sua scelta ottimale quindi in realtà in questa situazione di varietà di tele esiste una logica evoluzione la scelta della tela è normalmente legata al tipo di opera che il pittore vuole realizzare e quell'affermazione che si usa normalmente e che si riporta molto spesso in cui lui appunto dipingeva su qualunque cosa compresa la tela su cui mangiava tra l'altro frase che viene probabilmente dall'inversione di quello che afferma a bellori quando dice che mangiava sulla tela che dipingeva e non che dipingeva sulla tela dove normalmente mangiava è appunto un qualcosa che è estremamente diciamo così destituita da ogni fondamento sono delle scelte molto precise che il pittore opera diciamo così per ottimizzare il suo lavoro venendo invece alle preparazioni anche qui il poter confrontare opere differenti e nel diciamo così analizzandole nello stesso momento ci ha consentito di prestare attenzione anche a questo aspetto delle preparazioni che normalmente erano interpretate in maniera estremamente semplicistica si pensava che Caravaggio nella fase giovanile utilizzasse sempre delle preparazioni chiare delle preparazioni diciamo così leggermente grigie come questa che vediamo per il bacchino malato e che poi di punto in bianco arrivato intorno al 1599 anzi esattamente nel 1599 venivano abbandonate a favore di preparazioni scure quindi è come se Caravaggio fosse impazzito di punto in bianco e abbia cambiato repentinamente diciamo così il tipo di preparazione abbandonando all'istante tutte le preparazioni chiare e cominciando ad iscurire sempre di più queste preparazioni questo era quello che riportava la letteratura in realtà lo studio sistematico ci ha fatto vedere che il passaggio è decisamente molto più graduale questa è la preparazione del bacchino malato di poco successiva abbiamo la preparazione della maddalena penitente ancora un dipinto chiaro ancora una preparazione sicuramente non scura come quelle che poi utilizzerà nella fase matura ma sicuramente già una preparazione molto più colorata molto lontana da quel bianco diciamo così che poteva essere una reminescenza cinquecentesca nell'opera di Caravaggio proseguendo le preparazioni effettivamente cominciano ad iscurirsi ma la cosa più interessante è che effettivamente queste preparazioni non in qualche modo tendono ad alternarsi cioè c'è un lungo periodo oddio lungo adesso in base alle nuove cronologie andrà un pochino ridiscusso tutta la fase giovanile di Caravaggio si è ridotta in realtà a circa tre anni di attività quindi il lungo forse non è più una definizione giusta ma c'è un continuo alternarsi diciamo così di queste preparazioni e proprio la buona ventura di cui prima la dottoressa potreste ha fatto vedere una radiografia mostrerebbe in effetti questo alternarsi delle preparazioni qui vediamo per esempio una sezione stratigrafica di un campione prelevato dalla buona ventura dove nella parte inferiore quindi a preparare il dipinto con quella madonna adorante c'è una preparazione scura quindi una miscela di terre del tutto simile a quelle che poi Caravaggio utilizzerà nella piena maturità e poi al di sopra di questa per cancellare la stesura della madonna e realizzare la preparazione per la buona ventura troviamo una preparazione grigia che non è molto diversa da quella che avevamo visto per il bacchino malato in precedenza quindi effettivamente non un'evoluzione in una sola direzione ma in qualche modo un qualcosa di molto più complesso e articolato ma perché Caravaggio dovrebbe cambiare queste preparazioni e che senso ha la scelta del colore il colore forse influisce proprio anzi sicuramente influisce proprio sulla resa che il pittore vuole avere per il suo dipinto guardiamo in successione proprio l'incarnato della zingara nella buona ventura realizzato su questa preparazione grigia e che ha un incarnato con questo tono decisamente molto freddo confrontiamolo con quello con l'incarnato della maddalena realizzato su quella preparazione giallina dove guarda caso l'incarnato della maddalena assume proprio una tonalità molto più calda rispetto a quello che avevamo invece sulle figure della buona ventura andando ancora avanti questo dipinto chiaramente non è in mostra il martirio di San Matteo di San Luigi dei Francesi dove la preparazione è bruna decisamente molto molto scura e guarda caso il tono dell'incarnato in ombra delle figure rappresentate su questa composizione risponde perfettamente a quel colore della preparazione così come il colore della preparazione diventerà molto più caldo nei dipinti tardi in questo caso stiamo guardando una sezione dell'adorazione dei pastori di Messina dove il tono quasi rossastro della preparazione risponde perfettamente allo scopo di ottenere un incarnato molto molto caldo per le figure che appunto sono raffigurate su quel dipinto quindi questa idea che le preparazioni divengano sempre più scure è assolutamente negata dai fatti ma anche la casualità del colore della preparazione è negata dai fatti perché anzi la preparazione diventa effettivamente un elemento fondante importantissimo per cominciare a lavorare e quindi la scelta del colore è estremamente attenta è una scelta estremamente accurata e effettivamente queste preparazioni molto complesse molto articolate il cui colore viene raggiunto normalmente non con un singolo strato di preparazione ma più delle volte estendendo due tre in alcuni casi quattro strati di preparazione leggermente differenti come se i vari strati andassero a correggere diciamo così il colore dello strato precedente era proprio finalizzato ad ottenere esattamente quel colore che era quello che Caravaggio voleva ottenere per realizzare quel dipinto su un'articolazione così complessa delle preparazioni diciamo così ad un'articolazione così complessa delle preparazioni fa da contraltare l'estrema semplificazione invece delle stesure pittoriche nel dipinto che state guardando l'incarnato è realizzato con una semplice singola pennellata che definisce il chiaro mentre appunto le preparazioni sono molto più studiate molto più articolate hanno richiesto a mio avviso molto più tempo diciamo così di lavoro rispetto a quello che poi è la realizzazione pittorica vera e propria della superficie scurriamo qualche immagine e volevo un attimo parlarvi invece dell'impostazione della composizione anche qui veniamo da secoli direi dalle affermazioni di Bellori che ci diceva che Caravaggio era un pittore povero in disegno affermazione di Bellori che chiaramente si riferiva alla presunta incapacità di Caravaggio di impostare una composizione o di definire una composizione ma che è stata sempre letta come una avversione diciamo così di Caravaggio a realizzare dei disegni preparatori quindi a schizzare dei disegni a impostare dei disegni sulla preparazione prima di cominciare a dipingere questa affermazione era stata poi confermata dalle prime analisi scientifiche dalle prime ricerche all'infrarosso che andavano ad indagare proprio l'eventuale presenza di un disegno preparatorio negli anni 60-70 si erano fatti i primi tentativi effettivamente questo disegno preparatorio non era riscontrato non fu riscontrato e quindi effettivamente si trovò in questo una conferma all'affermazione di Bellori tant'è che negli anni 90 primissimi anni 90 le prime mie esperienze alla mostra di analisi scientifiche su dipinti di Caravaggio durante la mostra curata da Mina Gregori prima a Palazzo Pitti e poi alla Fondazione Memmo a Roma facendo queste prime riflettografie questi tentativi di riflettografia venivo diciamo così un pochino deriso da tutti quelli che avevano più esperienza di me sul campo e che dicevano perché cerchi il disegno preparatorio tanto non c'è lo ha detto Bellori le analisi non l'hanno trovato e questo disegno preparatorio non c'è con l'evoluzione delle tecniche e con scientifiche e con ricerche sempre più approfondite in realtà del disegno preparatorio ha cominciato ad uscire fuori è uscito fuori per prima cosa è stato riscontrato sui dipinti con preparazioni chiare qui vediamo per esempio il disegno che contorna il profilo del volto del ragazzo col canestro di frutta ma anche il naso le labbra e tutti quanti gli elementi e quindi secondo una tecnica che torna perfettamente diciamo così con la tecnica cinquecentesca con la pratica cinquecentesca da cui Caravaggio sicuramente veniva ma lo stesso tipo di disegno lo troviamo anche su dipinti con preparazione scura per esempio sul ragazzo Morso da Ramarro della fondazione Longhi anche qui intorno alle dita troviamo un profilo estremamente sottile che chiamiamolo disegno o non chiamiamolo disegno è comunque un tratto che in qualche modo fa da riferimento per l'impostazione della composizione a questo punto si è cominciato a pensare che Caravaggio avesse abbandonato questo sistema di impostazione della composizione con l'avanzare degli anni e quindi andando diciamo così verso una pratica decisamente differente e diciamo così indipendente dalla necessità di avere dei riferimenti grafici e in realtà le ultime ricerche riscontrano la presenza di disegno preparatorio addirittura nelle tele più tardi qui siamo sulla adorazione dei pastori del 1609 dove praticamente ad impostare il volto del muso del bue se forse è meglio incontrandoli tutti i giorni per tanto tempo anche il bue e l'asinello diventano diciamo così di famiglia quindi sono due persone a tutti gli effetti quindi sul muso del bue e dell'asinello troviamo comunque anche qui queste tracce diciamo così di convenzionale disegno preparatorio però indubbiamente Caravaggio passando alla fase matura e quindi proprio sul volgere del secolo quando comincia a dipingere le tele un pochino più grandi e quando comincia ad ingagliardire gli scuri come ci dicono le fonti abbandona un pochino questo disegno preparatorio quindi ne riduce il ruolo e comincia invece ad impostare la composizione mediante delle incisioni le famose incisioni quelle osservate all'inizio diciamo così all'inizio del secolo scorso da Marangoni che non so perché ma le chiamava incisure dove sia stato poi il cambiamento da incisure ad incisioni nella letteratura non sono mai riuscito a riscontrarlo ma una ricerca forse interessante che cosa sono queste incisioni mi dispiace credo che sulle immagini proiettate si veda poco vediamo a destra nell'immagine di destra delle linee rosse che sono la graficizzazione di queste incisioni sono dei graffi che il pittore realizza sulla preparazione per impostare la composizione quindi prima di iniziare a dipingere ma sono dei graffi che continua a realizzare anche durante lo svolgimento della pittura quindi quando ha già realizzato i primi strati pittorici magari ritorna rimarca qualche profilo delle incisioni e in alcuni casi addirittura fa dei graffi sulla superficie del dipinto a rimarcare magari qualche elemento che vuole appunto in qualche modo sottolineare realizzando quelle incisioni che Christiansen negli anni 80 defini incisioni decorative quindi proprio qualcosa di finale assolutamente straneo all'impostazione della composizione molto spesso queste incisioni impostano degli elementi della composizione che non debbono neppure essere visti questo per esempio sul sacrificio di Sacco c'è tutta un'incisione che taglia praticamente la mano dell'angelo che ferma il braccio di Sacco e l'incisione che troviamo segna esattamente il profilo del braccio di Sacco così come per esempio sulla conversione di Saulo De Scalchi troviamo queste incisioni che impostano il naso la posizione degli occhi e il profilo del volto che poi deve essere coperto dalla mano che lo nasconde che cosa servono queste incisioni a Caravaggio servono in realtà a velocizzare la realizzazione del dipinto un pittore normale diciamo così avrebbe dipinto o appozzato il braccio di Abramo così come avrebbe magari impostato il volto di Saulo per posizionare correttamente le mani che coprono questi elementi quindi per sapere esattamente la posizione della mano è bene avere un riferimento di che cosa questa mano nasconda beh Caravaggio consegnando queste incisioni in realtà evita diciamo così di dover dipingere qualche cosa e continua a vedere attraverso le stesure pittoriche della mano che appunto nasconde questi elementi della composizione il disegno o la veste grafica diciamo così della parte di dipinto che dovrebbe della parte della composizione che dovrebbe essere invece appunto alla fine nascosta quindi un sistema diciamo così di riferimento estremamente rapido le incisioni hanno un'evoluzione molto particolare nei dipinti di Caravaggio nella fase giovanile non ne troviamo quasi per niente questo nel riposo della fuga in Egitto troviamo soltanto quella brevissima incisione sull'Eggio e una forse vicino al piede della Madonna mano a mano che si procede e si passa appunto al secolo successivo e quindi ci si avvicina al 1600 vedete come per esempio sulla Giuditta lo ferne le incisioni le incisioni diventino decisamente molto maggiori fino ad arrivare praticamente a ricoprire a descrivere l'intera composizione in dipinti come il sacrificio di Sacco di punto in bianco queste incisioni scompaiono quando Caravaggio scappa da Roma praticamente spariscono e rimangono veramente molto poche sulla flagellazione troviamo solo quella alla base della colonna e andando ancora avanti praticamente quasi non se ne trovano più a questo punto la ricerca diciamo così che è stata portata avanti già da qualche tempo si è indirizzata sul ruolo di queste incisioni su che scopo queste incisioni potessero avere e mettendo insieme un po' di esperienze un po' di quello che ci raccontano le fonti un po' di osservazioni dirette un po' di inventari del tempo passato abbiamo ipotizzato che queste incisioni potessero in qualche modo essere legate all'ambiente in cui Caravaggio si trovava a dipingere in particolare si trovava a dipingere nella sua fase romana matura il possibile diciamo così setup dell'ambiente in cui Caravaggio realizza i suoi dipinti della fase romana matura potrebbe essere qualcosa di simile a questo quindi avere i modelli apposa praticamente vicino a lui che sta dipingendo sulla tela la luce è una luce che deve entrare in maniera molto radente all'interno della stanza e quindi in realtà per illuminare i modelli deve illuminare solo i modelli non può illuminare altro è l'unico modo che ha Caravaggio per vedere cosa sta dipingendo è di mettersi con la tela in condizioni di radenza a fianco ai modelli in posa e in questa situazione le incisioni sono decisamente molto più leggibili rispetto al disegno preparatorio convenzionale con questa illuminazione radiente un graffio sulla tela si vede su una tela quasi al buio con preparazione bruna e con un disegno scuro sopra questo disegno risulta praticamente quasi illegibile per osservare le figure in posa l'unico modo che ha Caravaggio a disposizione di osservarla in questa situazione è attraverso uno specchio specchio che ricordo era stato trovato effettivamente a casa di Caravaggio durante quando gli sono stati sequestrati tutti i beni del 1605 nell'inventario dei beni era presente uno specchio grande che probabilmente Caravaggio utilizzava a questo scopo e diciamo che quindi l'ipotesi fatta per il possibile impostazione dello studio diciamo organizzazione dello studio era un qualcosa diciamo così di simile a quello che vediamo in questa immagine vi ringrazio grazie ingegnere Falcucci ci ha fatto fare un escurso straordinario siamo partiti dalla tela poi ci siamo soffermati sulla preparazione e adesso sul modo di procedere per fissare le immagini tutto frutto di questa lunga ricerca e della sua esperienza maturata abbiamo sentito in parecchi anni di lavoro su queste tematiche e sono temi affascinanti perché è chiaro che noi possiamo sapere di più perché queste tecniche progrediscono progrediscono non per la storia dell'arte ma sappiamo bene che progrediscono per la nostra salute e adesso la dottoressa Isabella Castiglione ci spiega proprio come sono quali sono i progressi nel mondo della medicina di questa disciplina e come si possono applicare questi progressi alla diagnostica delle opere d'arte prego dottoressa grazie per la domanda perché penso che valga la pena approfondire quello che è stato un po' l'approccio innovativo che è stato applicato anche alle opere in mostra inteso come un approccio che si è avvantaggiato dei progressi che nel settore della medicina sono già in stato molto in corso di sviluppo e di validazione che provengono dalla elaborazione delle immagini in modo particolare dalle elaborazioni delle immagini radiografiche noi sappiamo che le tecniche di indagine di cui abbiamo sentito parlare in particolar modo la radiografia ma come altre tecniche nascono come tecniche di diagnostica medica e sono già ampiamente diffuse negli anni settanta ma la conoscenza di quello che è l'aspetto di queste immagini del segnale noi in gergo lo chiamiamo segnale il dato che ci interessa analizzare ci consente di applicare una serie di metodi che possono migliorarne essenzialmente la qualità e quindi possono aumentarne la leggibilità intanto è vero che oggi non ci si ferma più in medicina solo all'analisi visiva non c'è più il gesto del radiologo che osserva qual è attivamente per esempio una lastra radiografica a meno che non sia già sufficientemente chiara ma moltissimi sono gli aspetti che provengono da un settore della ricerca a sé che è proprio quello dell'elaborazione delle immagini che possono migliorare l'interpretazione vedete io vi mostro in questa diapositiva un'immagine che è un'immagine di una sezione corporea che ha parità di acquisizione quindi lo strumento è lo stesso ma semplicemente con l'applicazione di filtri diversi quindi con l'applicazione di algoritmi matematici che lavorano sul contenuto delle immagini può essere decisamente migliorata vedete scorgiamo per chi è nel settore delle zone maggiormente radiopache ma soprattutto andiamo a evidenziare in modo particolare nell'ultima immagine in basso molto bene alcune aree la colonna emerge emergono i reni e il rumore cioè quella quantità quel dato che ci confonde che ci impedisce di leggere bene il segnale viene a essere in qualche modo eliminato in modo particolare lavorano i filtri statistici che sono stati poi impiegati nelle immagini radiologiche del Caravaggio che lavorano molto bene sui dati che rappresentano uno stato di un sistema quindi anche la radiografia di un dipinto che non è direttamente osservabile ma di cui si richiede una stima quindi un dato che è sottostante in questo caso alla preparazione e alla composizione pittorica soprattutto dati che possono provenire da più sensori da più tecniche diverse affetti da rumore vedete come anche in questa immagine sezione dell'addome di un individuo l'immagine a sinistra noi diciamo è molto rumorosa non si percepisce molto bene questo dettaglio mentre con l'applicazione di filtri statistici questi dettagli che sono dei dettagli purtroppo sintomi di lesioni patologiche vengono a essere maggiormente evidenziati non solo ma dalle immagini riusciamo a estrarre tutta una serie di informazioni quantitative avanzate che possono essere utilizzate per leggere i numeri che stanno sotto le immagini in maniera più accurata possiamo lavorare con tecniche di segmentazione quindi estrarre dei volumi delle regioni di interesse che hanno un particolare significato all'interno delle immagini come in questo caso possiamo lavorare segmentando i polmoni in queste radiografie o delle lesioni oncologiche ed estrarre delle caratteristiche numeriche con diverse tecniche che possono anche essere confrontate nel tempo o che possono confrontare immagini diverse per esempio applicando tecniche di segmentazione possiamo fare in modo che emergano delle regioni di interesse che appartengono a una medesima classe delle immagini in questo caso per esempio a un tessuto che potrebbe essere un tessuto oncologico necrotico quindi senza la guida dell'operatore ma in maniera completamente automatica o ancora possiamo analizzare le immagini per cercare delle caratteristiche cosiddette di tessitura quindi che ci danno delle indicazioni quantitative sulla trama diversa dell'immagine provengono dalla medicina e sono oggi molto utilizzate per caratterizzare la diversa eterogeneità dei tumori ma in qualche modo rappresentano quella che è la percezione di una tessitura diversa abbiamo sentito parlare di tele del caravaggio che nel corso del tempo cambiano in qualche modo la granulosità e la tessitura e noi abbiamo utilizzato in mostra questo tipo di approccio per lavorare su delle regioni di interesse di tessitura uniforme addirittura possiamo poi spingerci oltre quando l'occhio umano non vede il segnale sull'immagine e non riesce a percepirlo perché è molto limitato e possiamo fare applicare delle tecniche statistiche avanzate che riescono a far emergere dei particolari in questo caso delle regioni atrofiche cerebrali che sono sintomo di malattia neurodegenerativa che non possono essere colte dall'occhio del clinico come abbiamo trasferito tutte queste competenze sulle immagini ottenute dai dipinti in mostra essenzialmente sulle immagini radiografiche io vi ho portato due esempi ma per chi ha avuto l'occasione di vedere la mostra sono tantissime le opere che sono state studiate con queste tecniche uno esempio è già stato citato da Rossella il San Giovanni Battista abbiamo l'immagine originale del dipinto visibile e l'immagine radiografica del dipinto già in ottima qualità i raggi X ma che mostrano un'area di radiopacità dubbia alla destra applicando tecniche di segmentazione quindi algoritmi che provengono dalla ricerca del nostro istituto nel settore medico siamo riusciti a segmentare l'immagine a destra del santo e a utilizzare dei filtri che hanno in qualche modo ridotto la quantità di rumore presente nella radiografia mantenendo la quantità di segnale ecco che emerge come risultato finale una figura di un animale è il punto di partenza di analisi che sono ancora in corso e che sembra indicare la presenza di un agnello abbozzato in due posizioni ma che è molto più evidente rispetto alla radiografia originale anche per la buona avventura abbiamo applicato algoritmi iterativi di correzione del rumore partendo dall'immagine radiografica del dipinto guardate quanto rumore quante componenti radiografiche sono presenti nell'immagine originale perché abbiamo componenti che derivano dalla radiografia della buona avventura e si intravede la vergine ruotata di 90 gradi come componente radiografica di ciò che sta sotto al dipinto allora abbiamo sviluppato ad hoc un metodo basato su un filtro statistico un filtro noto in medicina come filtro di bias che in qualche modo maschera utilizzando l'informazione del dipinto originale che è quella della buona avventura va a mascherare in modo successivo nel tempo correggendo di volta in volta l'immagine iniziale le zone che non appartengono alla buona avventura ecco che vedete che questo tipo di algoritmo è stato applicato in modo iterativo più volte e vedete che la radiografia passa da questo tipo di qualità comincia a essere migliorata nelle prime interazioni questa è una seconda interazione compare maggiormente la vergine e va a scomparire la parte di rumore appartenente alla buona avventura fino a quella che è l'elaborazione finale dell'algoritmo che alla decima iterazione con l'applicazione di un filtro statistico che è andato a spegnere completamente il rumore proveniente dalla buona avventura appare in maniera molto chiara molto netta la vergine che può essere poi studiata a sé in conclusione quello che possiamo dire per la prima volta in questa mostra sono state applicate a parte le tecnologie già note che provengono dalla medicina le tecniche di elaborazione che si avvantaggiano di questi 30 anni in cui in medicina sono state ampliamente sviluppate e validate e questo può dare numerosi vantaggi sicuramente un maggior controllo delle elaborazioni delle immagini radiografiche una maggiore riproducibilità di queste elaborazioni perché i risultati sono riproducibili tra diversi operatori una leggibilità migliore e una maggiore obiettività dei risultati e vi lascio con un filmato che rappresenta un pochino la sintesi di tutto ciò grazie 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 vedendo queste immagini ascoltando tutti gli interventi che abbiamo adesso appunto apprezzato mi è venuta in mente una storia che si raccontava nel mondo collezionistico intorno al 1939 un collezionista scopre un dipinto di Caravaggio in una bottega di un antiquario romano naturalmente è il 39 gli studi di Caravaggio cominciano ad essere avviati e soprattutto è un periodo in cui le leggi proteggono il patrimonio artistico questo signore pensa bene di prendere il quadro e di esportarlo in modo illegale ci fa dipingere sopra un ritratto di Benito Mussolini il quadro viene portato alla frontiera in Francia e viene riparato a Parigi naturalmente il collezionista manda il quadro da un restauratore parigino il restauratore attraverso i contatti che si potevano avere allora relaziona piano piano della pulitura del dipinto naturalmente viene tolto il ritratto di Mussolini e si arriva a restaurare il quadro solo che a un certo punto il restauratore scrive che mentre sta restaurando sotto il Caravaggio è emerso un ritratto di Benito Mussolini questa è una storia per dirvi che non sarebbe mai successo un fatto del genere che è una storia inventata però non sarebbe mai successo un fatto del genere in questi anni e in questo momento perché grazie alla grande progresso che sul fronte della medicina innanzitutto il che ci conforta benissimo perché riuscire a capire sempre meglio e leggere sempre meglio all'interno del nostro corpo è una grande garanzia per la cura e la salute ma applicando tutte queste bellissime innovazioni anche alla ricerca storico-artistica per cui queste discipline si uniscono attorno a qualcosa che è identitario cioè il patrimonio artistico italiano è qualcosa di tutti noi Caravaggio è uno dei nostri grandi figli e quindi è molto interessante che in questo incontro si sia capito una cosa che si sta andando avanti cioè che qui siamo in una fase di passaggio che la lettura delle diagnosi mediche sarà sempre più elaborata e quindi sarà possibile avere incontri speriamo periodici su questi argomenti per capire sempre di più e sempre meglio credo che ci sia un filmato adesso no allora è previsto adesso la conclusione del nostro incontro con i ringraziamenti naturalmente a chi ha accettato di partecipare ancora grazie alla dottoressa Bracco per l'ospitalità in questo bellissimo luogo e sappiate che la mostra è stata prorogata se qualcuno per caso non è riuscito ad andare adesso fino al 4 è possibile tra l'altro in totale libertà quindi armatevi di elmi, scudi, lance per farvi largo tra la folla e soprattutto alzatevi presto la mattina perché bisogna mettersi in fila perché non ci sono più possibilità di prenotazione si entra presentandosi quindi questa è un'occasione per chi non ha ancora visto la mostra da non perdere adesso ci salutiamo credo con un cocktail grazie per l'attenzione e buona serata a tutti grazie per l'attenzione e buona serata a tutti